La notizia degli investimenti che saranno dedicati alla E45, attualmente in condizioni disastrate in molti tratti e per diversi chilometri, ha creato soddisfazione nel Ravennate, dove il nodo della viabilità, ed in particolare quella legata all'arteria di collegamento con Orte, è un tema particolarmente sentito e discusso. Il vice sindaco di Ravenna, Gian Antonio Mingozzi, ha sottolineato come sia positivo che Governo, Regione e ANAS abbiano deciso di migliorare la viabilità in entrata e in uscita da Ravenna, mettendo mano al dissesto della E45 e creando le condizioni per un nuovo collegamento del porto con la viabilità esistente e ipotizzando il raddoppio del primo tratto della statale Romea per circa 6 chilometri. Non è invece stato accolto con favore dall'amministrazione Ravennati il rinvio della soluzione definitiva del collegamento Ravenna-Ferrara, che si otterrebbe solo con una nuova strada. Limitarsi a pensare ad interventi che si intendono effettuare per migliorare l'attuale Romea significa illudersi che quell'asse possa rappresentare nel contempo strada turistica ad alta frequentazione locale e strada commerciale per le industrie e le imprese portuali, che hanno bisogno di migliorare il collegamento con la Ferrara Mare, con il Nord Italia e l'Europa. Per rendere competitive le nostre merci, il traffico contenere, le operazioni di imbarco e sbarco nei nostri terminal, conclude il vice sindaco, è necessaria una maggiore celerità di trasporto che solo il nuovo tratto di E55 potrà garantire.